Strada Provinciale 330, proseguono i lavori nella zona industriale di Teggiano. Rifiuti Vallo di Diano, tutto pronto per la costituzione del SAD, a breve la prima riunione dei sindaci. De Luca, i punti nascita con meno di 400 parti, l'anno prossimo chiuderanno a rischio Polla. Padula, i ragazzi del Pisacanne scelti da Telefono Azzurro per la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Salernitana, fuori dalla zona retrocessione, vittoria importante contro il Venezia, ora testa al Cagliari. Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Proseguono i lavori di allargamento della strada provinciale 330 nella zona industriale di Teggiano. Ad oggi, spiegano dalla provincia, sono state completate le opere idrauliche, ultimata anche la realizzazione del corpo stradale con i relativi allargamenti. In corso d'opera, la sottofondazione, a cui seguiranno i lavori di sovrastruttura stradale. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Proseguono i lavori di allargamento della SP 330 nel tratto ricadente nel comune di Teggiano, per un importo di oltre 426 mila euro. Si tratta dell'Artea che dalla zona industriale di Teggiano porta all'innesto autostradale di Sala Consilina. Questo intervento è particolarmente importante, spiegano dalla provincia, perché consente l'adeguamento della sezione stradale di tipo F, con la rettifica del tracciato esistente allo scopo di garantire una migliore fluidità in sicurezza del transito veicolare. Nello specifico, l'opera prevede la rettifica di quattro curve e l'allargamento della piattaforma stradale a 14,5 m, realizzando una strada di tipo F2, con due corsie per senso di marcia, della larghezza di 3,25 m con banchina laterale di un metro e relative opere idrauliche. L'esecuzione dei lavori ha comportato l'esproprio di 50 particelle di terreno per una superficie di oltre 3.600 m2. Ad oggi sono state completate le opere idrauliche, ultimata anche la realizzazione del corpo stradale con i relativi allargamenti. In corso d'opera la sottofondazione, a cui seguiranno i lavori di sovrastruttura stradale. L'arteria, dichiarata opera di pubblica utilità, necessitava da tempo di interventi, poiché di fondamentale importanza per le attività dell'insediamento industriale e per chi da quelle zone deve raggiungere l'innesto dell'autostrada a sala Consilina. È molto frequentata, il che con gli anni ne ha causato l'usura con buche e avvallamenti che l'hanno resa sempre più pericolosa da percorrere. Nel febbraio 2020 era stato ufficializzato l'inizio dei lavori, poi un blocco a causa dell'emergenza Covid, ma i lavori sono ripresi dallo scorso maggio e proseguono per consegnare alla comunità e alle attività industriali un'arteria sicura e percorribile. ANAS ha avviato lungo la 2 del Mediterraneo, nel tratto in prossimità dello svincolo di Atena-Lucana, la sperimentazione di asfalti innovativi e nuove metodologie in tema di sostenibilità e riduzione delle risorse naturali a basso impatto ambientale. Si tratta di nuove tipologie di conglomerato bituminoso realizzate con materiali riciclati ed ecosostenibili, prove per aumentare la drenabilità del tappeto di usura drenante e il grip superficiale utilizzando macchinari di ultima generazione in tema di sostenibilità ambientale. Queste metodologie, le prime realizzate a livello nazionale e ad oggi in fase di sperimentazione, potranno dare un nuovo e forte impulso in materia di ecosostenibilità e di riciclo delle materie secondarie e dare una svolta importantissima nel campo del Green Pavement. Voltiamo pagina. Tutto ok per la costituzione del SAD. A breve si dovrebbero riunire i sindaci per le ultime definizioni per poter proseguire con la convocazione della prima assemblea dell'organo in via di Costituzione, un ente che porterà il Vallo di Diano nel suo complesso a poter assumere decisioni in merito al tema dei rifiuti. Vediamo i dettagli nel servizio. Nuovo atto a breve per la costituzione del SAD ecodiano per la gestione del servizio rifiuti in forma associata tra tutti i comuni del Vallo di Diano. Nei prossimi giorni i sindaci del comprensorio si riuniranno per sottoscrivere la Convenzione per la Costituzione del Subambito Distrettuale, atto fondamentale per poter procedere con la convocazione della prima assemblea nel corso del quale i sindaci saranno chiamati a scegliere quale sarà il comune capofila del nuovo ente. Si terrà giovedì prossimo la conferenza dei sindaci nel corso del quale saranno sottoscritte le convenzioni per la Costituzione del SAD. Una volta sottoscritta la convenzione da parte dei primi cittadini dei 15 comuni aderenti del Vallo di Diano e che hanno approvato in Consiglio Comunale lo schema di convenzione, il sindaco del comune più popoloso, quindi il sindaco di Sala Consilina, procederà ad indire entro 15 giorni la prima assemblea del SAD, nel corso del quale sarà scelto il comune capofila del Subambito. Sarà questo un passaggio fondamentale dato che toccherà proprio al primo cittadino del comune individuato come ente capofila sottoscrivere la convenzione a Salerno presso l'ente d'ambito. Proseguono quindi le attività per la Costituzione del Subambito dopo il breve stop dovuto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'ambito che hanno visto la netta riconferma di Giovanni Coscia alla presidenza dell'ente. Così come annunciato da Coscia, entro l'estate saranno attivi i SAD. Ultimi atti quindi per i 15 comuni del Vallo di Diano prima di poter partire con la gestione del servizio rifiuti con maggiore autonomia. La Costituzione dei SAD infatti è stata voluta nell'ambito della legge regionale per consentire ai diversi territori di poter meglio attivare le azioni utili alla gestione del servizio rifiuti tenendo conto delle differenze e delle specificità dell'area. In provincia di Salerno sono ben 11 i subambiti in via di Costituzione e sono SAD Salerno, SAD Agro Settentrionale, SAD Agro Meridionale, SAD Bussento Lambro e Mingardo, SAD Cilento Centrale Calore Salernitano, SAD Costa d'Amalfi, SAD Ecodiano, SAD Piana del Sele Porta del Cilento, SAD Picentini e Battipaglia, SAD Tanagro Alto e Medio Sele, SAD Alburni, SAD Cava dei Tirreni e SAD Valle dell'Irno. La Regione Campania ha richiamato tutti i datori di lavoro pubblico e privato all'osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare per l'uso delle mascherine. È stato pubblicato ieri l'atto di richiamo e raccomandazione all'obbligo dell'uso delle mascherine nei luoghi di lavoro pubblici e privati, a firma del Presidente Vincenzo De Luca. Fino al 15 giugno i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, comprese gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l'uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine. I punti nascita con meno di 400 parti l'anno prossimo chiuderanno, a dirlo ieri il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Tornano quindi le preoccupazioni per gli ospedali di Polla e di Sapri. I punti nascita con meno di 400 parti l'anno prossimo chiuderanno, a dirlo ieri da Eboli il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che era nella Piana del Sele per inaugurare il reparto di cardiologia del Maria Santissima Adolorata. Tornano quindi le preoccupazioni per gli ospedali di Polla e Sapri, che stando ai numeri dello scorso anno non raggiungono la soglia dei 400 parti. Nel 2021 a Luigi Curto sono nati 344 bambini e sono numeri superiori rispetto agli altri due presidi vicini. I dati ufficiali sui parti effettuati nei diversi ospedali della provincia di Salerno dicono che all'Immacolata di Sapri lo scorso anno sono nati 261 bambini, mentre il San Luca di Vallo della Lucania si è fermato a 282. Dati che avevano fatto ben sperare per il futuro del punto nascita del Vallo di Diano, che ogni anno torna a vivere le angosce legate al rischio della chiusura. De Luca ieri a Eboli ha esaltato ciò che di positivo c'è sul territorio e ciò che negli anni è stato fatto senza dimenticare le difficoltà, lanciando tra le altre cose proprio l'allarme sui punti nascita. Siamo stati diffidati tre volte da Roma per gli ospedali con meno di 400 parti, ha detto. L'anno prossimo chiuderanno. Lo ha dichiarato nel raccontare le criticità che continuano ad affannare la macchina sanitaria regionale. Siamo in guerra continua con i Ministeri dell'Economia e della Sanità, ha detto. La nostra regione è quella che riceve meno risorse di tutte ed è una vergogna. Ora la cronaca. Tentata rapina ieri pomeriggio alla farmacia comunale situata in località Licinella di Capaccio Pestum. I ladri sono stati messi in fuga dalla direttrice. Vediamo i dettagli nel servizio. Tentata rapina alla farmacia comunale in località Licinella di Capaccio Pestum. Nel tardo pomeriggio di ieri due malintenzionati a volto coperto ed armati, dopo essere improvvisamente scesi da un'auto parcheggiata nei pressi dell'attività, hanno tentato in vano di sfondare la porta d'ingresso, che di solito la farmacista di turno tiene sempre chiusa quando si ritrova da sola durante il proprio orario di lavoro, specie di sera. All'interno vi era proprio la direttrice, la quale con coraggio e freddezza non ha aperto nonostante le continue minacce dei rapinatori, i quali hanno poi cercato in vano di forzare una finestra laterale prima di desistere dal mettere a segno il colpo, dandosi poi a precipitosa fuga anche perché notati da alcuni residenti e passanti che hanno iniziato a gridare dando subito l'allarme. Sul posto sono giunti dopo pochi minuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D'Agostino, che ora indagano sull'accaduto con il coordinamento della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Fabio Lagarello. Raccolte le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, saranno passate ora al setaccio le immagini di videosorveglianza private e di varie attività presenti nella zona. Cambiamo argomento, i ragazzi del Pisacane di Padula hanno preso parte ieri alla giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Sono stati scelti da Telefono Azzurro per un podcast realizzato sul tema del sexting. Vediamo. Importante giornata ieri per i ragazzi del liceo scientifico Pisacane di Padula scelti in tutta Italia da Telefono Azzurro per prendere parte alla giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Ad essere premiato in particolare è stato l'impegno della classe seconda A che nell'ambito del progetto Innovamenti del MIUR, con la supervisione del professore Vincenzo Maria Pinto, ha realizzato il podcast dal titolo Mio corpo mi ha scelta sempre sul tema del sexting, fenomeno sempre più in ascesa che consiste nell'invio di testi o immagini sessualmente esplicite sul web. È stato il professore Ernesto Caffo, presidente e fondatore di Telefono Azzurro, a contattare personalmente il liceo di Padula per l'elevato valore del messaggio veicolato. Ieri dunque la classe seconda A ha preso parte alla diretta live che si è svolta all'Istituto Colombo di Roma dal tema Io mi fidavo, l'abuso sessuale può avere molte facce, parliamone insieme, dando il proprio contributo per sensibilizzare sui pericoli dell'adescamento online e dei rischi in genere della rete. Presenti diversi illustri relatori, tra cui il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e i ministri Luigi Di Maio ed Elena Bonetti. L'appuntamento, organizzato a cadenza annuale, rappresenta un importante momento di riflessione per tutte le realtà impegnate nella prevenzione e nel contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, fenomeno che, soprattutto nel mondo digitale, vede sempre più ragazzini coinvolti, spesso vittime di loro coetanei. Lo dimostra l'aumento di ben il 64% rispetto al 2020 delle segnalazioni a telefono azzurro. Il dirigente scolastico della Pisacane, Pietro Mandia, ha rivolto un plauso alla classe seconda per l'ottimo lavoro realizzato, ringraziando Telefono Azzurro per averne colto il valore, premiando l'impegno dei ragazzi per la sensibilizzazione sul tema del sexting. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti. A tra poco! Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale. Pubblicato il bando Io Studio Regione Campania per l'assegnazione di borse di studio ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Le domande fino al 12 maggio. Vediamo. La Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, aiuta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da famiglie con reddito basso ad avere maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura. Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato l'avviso Io Studio Regione Campania per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2021-2022. La finalità è quella di perseguire su tutto il territorio regionale l'affermazione del diritto allo studio degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Lo scopo, si legge ancora nell'avviso, è quello di assicurare la corresponsione di 29.017 borse di studio per il sostegno del diritto allo studio, finalizzato a garantire il consolidamento del sistema scolastico e il potenziamento delle opportunità per le famiglie campane. Possono fare domanda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche, private e paritarie della regione appartenenti a famiglie con un ISEE inferiore a 15.748,48 euro. L'importo di ciascuna borsa di studio sarà pari a 250 euro. C'è tempo fino al 12 maggio prossimo per presentare la domanda attraverso l'indirizzo iostudio.regione.campagna.it e seguendo le indicazioni. La piattaforma per la presentazione della domanda sarà accessibile durante tutto il periodo del bando dalle 9 alle 22. Domenica in occasione della festa della mamma torna nelle piazze italiane la zalea dell'AIRC per la ricerca sul cancro. Molte le piazze valdianesi interessate dall'iniziativa. I dettagli. In occasione della festa della mamma, domenica 8 maggio, torna la zalea della ricerca di fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Tantissime le piazze in tutta Italia in cui sarà possibile acquistare una zalea per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Oltre 20.000 i volontari che saranno impegnati per una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale. Molte le piazze interessate dall'iniziativa anche nel Vallo di Diano. L'appuntamento domenica sarà a Sala Consilina in piazza Umberto I, a Padula Scallo in piazza Chiesa Sant'Alfonso e in piazza della Certosa, a Casalbuono in piazza Carlo Pisacane, a Polla presso la biblioteca comunale, a Sant'Arsegno in piazza Europa, ma anche a San Pietro Altanagro in piazza Enrico 40 e ad Auletta presso la strada nazionale. Un fiore speciale che in 38 anni è diventato il simbolo della festa della mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile. La zalea della ricerca AIRC è infatti permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. Domenica 8 maggio, oltre alla zalea della ricerca, verrà consegnata anche la speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune salutari ricette. Inoltre, per chi volesse fare una sorpresa alla mamma, anche se a distanza, è possibile ordinare la zalea su Amazon. Per conoscere tutte le piazze in cui sarà possibile domenica trovare la zalea della ricerca, c'è il sito internet dedicato all'iniziativa. Ora lo sport. La Salernitana da ieri sera è fuori dalla zona retrocessione. Un risultato arrivato dopo una gara di sofferenza ma di grande cuore dei ragazzi di Nicola. Ora però è necessario non sprecare il lavoro fatto. La prossima sfida, un'altra gara determinante. Domenica alle 18, infatti, alla Rechi, arriva il Cagliari. Vediamo i dettagli nel servizio. Dopo un'intera stagione fanalino di coda di una Serie A sognata da tutta la tifoseria Granata, ieri sera la gara di recupero del campionato, giocata in uno stadio a Rechi gremito da 25.000 persone, tra cui anche tantissimi valdianesi, ha fatto toccare con mano una salvezza sognata e non più solo sperata. Il miracolo del nuovo presidente Danilo Iervolino sembra essere vicino. Le speranze di salvezza sembravano ad un certo punto della stagione essere svanite, ma alla guida della Salernitana arriva il nuovo presidente Iervolino e la storia è tutta da riscrivere. La tifoseria ha iniziato quindi a sognare e a credere nel miracolo che solo Nicola, già in passato, era riuscito ad ottenere. Ieri sera quel miracolo si è consumato con la vittoria della Salernitana per 2-1 sul Venezia, che ora occupa il posto nella classifica di Serie A che per tante giornate era stato della Salernitana. Un rigore piazzato perfettamente da Bonazzoli aveva portato la Salernitana sull'1-0 con i Granata che erano riusciti a mantenere inviolata la porta per 58 minuti, grazie anche ad un ottimo sepe. Un gol rocambolesco di Henry ha rimesso in pari la partita lasciando la Rechia a Mutolito, ma solo per un attimo. Dagli spalti è subito ripartita la spinta per continuare a lottare ed ecco che arriva la mossa di mister Nicola. Entra in campo un carichissimo Verdi che dopo 9 minuti risolve tutto. 2-1 e 3 punti fondamentali per la Salernitana che in una gara di recupero di campionato non giocata per i numerosi casi di contagio da Covid ha portato il Granata a superare in classifica il Cagliari che si ritrova ora spedito in zona retrocessione. Ora però è necessario mantenere la concentrazione e la giusta adrenalina per il rush finale. Già domenica i ragazzi di Nicola scenderanno nuovamente in campo affrontando alle ore 18 proprio il Cagliari. L'ennesima sfida salvezza che può e deve concludersi con una nuova vittoria. Già ieri sera per la grande sfida Salerno e tutta la provincia paralizzati per seguire e supportare Granata. Alla Rechi non sono mancati anche i valdianesi a supportare la squadra del Miracolo e a gioire tra mille emozioni per i gol di Verdi. E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento. Grazie a tutti.